Buongiorno! Ehi, ciao Angela! E come sei bella con questo? Sì, mi piace? Sì, molto bella. Senti un poco. Dimmi un poco. Stavo mettendo a fare pasta e cavolo. Ah. Però noi cavolo come lo facciamo adesso con la provola, mettendo nel forno. No, pasta e cavolo non con mano come lo abbiamo sempre mangiato. Ok. Eh, avevo messo aglio e dico, dico, tu ne le prosciutto. Mmm, e olio. E olio. Ma facciamo un po' soffrire. Sì. Ecco qua. Invece adesso si mangia la pasta e cavolo con la provola, la pasta e cavolo con le gozze, la pasta e cavolo a forno. No, pasta e cavolo che sempre l'abbiamo mangiato. E c'è qua il cavolfiore? Sì. Ma lo sciacquiamo un poco. Un altro po'. Sì. Perché la frutta e la verdura va sciacquato anche. Sì, perché non lo sciacquiamo. E se ce l'abbiamo sciacquato una volta. Va bene. Allora aspettiamo un po' che soffriggi. Ah, aspettiamo. Mettiamo anche... Ah, mettiamo pure? Mettiamo anche l'aglio, ci sta facendo. Mettiamo acqua e cavolo. Come si faceva una volta. Invece adesso fanno soffrire il ruolo, mettono la provola. Invece voglio fare proprio pasta e cavolo. Una volta. piena di formaggio. Ecco qua. Voglio tagliare l'aglio dentro. Ecco qua. Mettiamo... E mettiamo il cavolo. Ah, così proprio, intero? Sì, facciamo con il saluto insieme. Ok. Aspettiamo che si fa e buttiamo la pasta. Andrò, sto facendo la pasta mista che la faccio io. Vedi, mi rimane due e mezza di madre e faccio un po' che la sta miscata. Ah. E per me se ne cavolo. Vedi? Che si sta facendo, vero? E che è cotto. E' cotto. E' cotto io. E' cotto qua. Qui, già si è cotto. Sale. E poi dopo ci mettiamo un po' di formaggio e un po' di beve. E' cotto. Ok, è cotto. Ah, che bella faccia che te ne. Buon di formaggio. E' che se passa il cavolo è una volta. Poi con me non ti mi ha provato anche. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Della cava la cava. Buono. Vabbè, vedi? C'è veramente lo consulato. Ok. Ok. Ok.